Bentornati alla nostra rubrica di informazione giuridica. Può succedere di essere condannati ingiustamente? La risposta è sì. Non parliamo ovviamente di un diverso modo di valutare le prove o la colpevolezza di un imputato, perché per questo ci sono tre gradi di giudizio che vengono approntati dal nostro ordinamento, trascorsi i quali ovviamente l'interesse dell'apparato dello Stato è quello di chiudere un procedimento penale. Ecco così che definiamo una sentenza passata ingiudicato. Può però succedere, e si chiama appunto errore giudiziario, che successivamente a questo passaggio ingiudicato di una sentenza di condanna succeda qualcosa per cui c'è l'interesse a rivedere quel processo. Ci scrive Carlo Di Arezzo infatti cosa succede se un imputato viene appunto ingiustamente condannato. L'ordinamento italiano prevede l'istituto della revisione del processo, è un procedimento particolare che si svolge davanti alla Corte d'Appello territorialmente competente e che punta a revocare la sentenza di condanna. Può essere iniziato in qualsiasi momento e addirittura può terminare anche dopo la morte del condannato su iniziativa dei suoi parenti o di un curatore speciale. Per sottolineare che si tratta di un interesse dello Stato e non soltanto della persona condannata, possiamo dire che questa richiesta può essere avanzata anche dal procuratore generale presso la Corte d'Appello. Una volta revocata questa sentenza di condanna, a seguito della revisione, l'ex imputato ha diritto anche ad un risarcimento del danno, appunto a quella che si chiama la riparazione dell'errore giudiziario. Mauro Di Montevarchi ci scrive quali sono i casi in cui è emessa la revisione e si tratta di casi assolutamente tassativi. Innanzitutto se la sentenza di condanna è in contrasto con un'altra sentenza civile o penale, quindi se c'è un contrasto tra giudicati. Se si scoprono nuove prove che da sole o unite alle prove precedentemente acquisite consentono di ritenere la innocenza dell'imputato. Oppure se la condanna è avvenuta sulla base di prove che vengono successivamente ritenute false o comunque viziate da altri reati. Un altro caso, e parliamo in questa ipotesi di rescissione del giudicato, non più di revisione, è quando il processo penale si è svolto in assenza dell'imputato, ma l'imputato riesce a dimostrare che questa assenza non è dovuta a sua colpa e quindi ha diritto di ricominciare questo procedimento da dove è stato dichiarato assente per essere appunto giudicato nella sua presenza. Grazie per averci seguito, al prossimo appuntamento.